Giovanna Ralli, aperte le virgolette, quella volta che Marcello Mastroianni fece Cilecca. Giovanna Ralli è stata una grande attrice, appartiene ai miei tempi, è nata prima però di me, io sono nato nel 1940, invece Giovanna Ralli è nata nel 1935, a cinque anni di me, io ho 67 anni, lei mi ha 82, io che bella donna che è stata protagonista di tantissimi film, io ricordo soprattutto La Lupa, La Lupa, il film La Lupa con Giovanna Ralli, il film La Lupa è tratto da una novella del grande Giovanni Verga, su un grande web journal, un grande web journal, leggo che Giovanna Ralli, ricordando il passato, ha ricordato quella volta che in un film doveva fare l'amore con Marcello Mastroianni, continuava a farci ricca, continuava a farci ricca, ma io vi chiedo, carissima Giovanna Ralli, sei stata l'alto bella, sei stata di fatto dei film meravigliosi, ma nei film che facevi tu, mica si facevano vedere gli organi sessuali, non c'erano ancora, molto no, infatti i film a luci rosse, Giovanna Ralli, neanche Marcello Mastroianni, allora che importanza aveva se Marcello Mastroianni continuasse a farci ricca, anche se non gli si rizzava, e per il pubblico mica dovevate farlo vedere, l'uccello di Marcello Mastroianni, con rispetto parlando, vabbè cari amici, vabbè cari amici, vi ho parlato di Giovanna Ralli perché è stata una grande attrice dei miei tempi, ok cari amici, a tutti e tanti cari saluti da Serafino Massoni.